Sul fronte del quarto lotto della Teramo Mare si riaccende la polemica sul tracciato a sollevare ora le proteste il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, che ha convocato un consiglio straordinario per lunedì 12 dicembre per discutere del progetto alla presenza di Regione Anas. Quello che non piace al primo cittadino è che il piano approvato da Anas passerà a sud del fiume Tordino, quindi nel territorio di Roseto degli Abruzzi. In risposta a queste polemiche il sindaco del comune di Giulianova, Ivan Costantini, che ha ricordato che i tempi per le modifiche non ci sono più, visto il rischio concreto di perdere i fondi. Innanzitutto dobbiamo dire che i fondi scadono nel 2023, quindi vanno appaltati rapidamente, c'è un progetto definitivo, ci sono le amministrazioni comunali, la provincia, l'Anas e la Regione Abruzzo, che ci lavorano ormai da quattro anni, siamo in dirittura d'arrivo. Oggi fare del campanilismo politico quando i cittadini aspettano il quarto lotto da Teramo Mare mi sembra veramente superfluo. Poi ognuno naturalmente è libero di fare le proprie battaglie, però comprendiamo tutto, ma dobbiamo spiegare ai cittadini che c'è stato un lavoro che è durato anni, si è arrivato a un progetto definitivo e che non si può rischiare perché naturalmente se dovessimo perdere i fondi per alcuni ritardi qualcuno si assumerà la responsabilità politica. Un'opera di circa 7 chilometri molto attesa dai cittadini non solo, che parte dalla rotonda che chiude il terzo lotto in territorio di Notaresco e arriva a innestarsi sulla statale 16 Giulianova. Un intervento finanziato con 183 milioni di euro e gestito dall'Anas con i comuni interessati. Un progetto molto importante, come diceva lei, per la provincia di Teramo, per tutta la costa, ma anche per il turismo abruzzese. Ma è un progetto determinante, provate a pensare che riusciamo a collegare l'Adriatico con il Tirreno senza avere strade statali, senza avere problematiche di sorta, traffico, centri urbani invasi da autovetture. Quindi, ripeto, io ci sta tutto, il campanilismo politico comprendo tutto, però un amministratore deve anche essere responsabile, sapere che i fondi scadono e sapere che comunque c'è un lavoro di anni dietro e bisogna portarlo a termine nel minore tempo possibile. I cittadini queste diatribe non le comprendono e invece vogliono vedere realizzate le opere. Quindi speriamo appunto che si possa nel minore tempo possibile, ma sono convinto anche perché abbiamo avuto anche una fitta interlocuzione con il Ministero dell'Infrastruttura, il Ministro e il Secretario del mio partito, quindi Matteo Salvini. Quindi sappiamo che veramente c'è da correre e vorremmo poter vedere l'opera realizzata nel minore tempo possibile.